Questo è un video tappabuchi, no dai non è un video tappabuchi, non ho neanche voce, è molto bene Qualche settimana fa, cioè una settimana fa in realtà, ho suonato in crociera E dato che mi avete scritto in tanti chiedendomi come ho fatto, come è stato, dove ho suonato, che viaggio ho fatto eccetera 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 Ho deciso di farvi un video dove vi spiego un po' di cose, dove vi faccio vedere anche un pezzettino di video fatto da uno del pubblico Voce Prima di cominciare col video però vi voglio ricordare di iscrivervi al canale Iscrivetevi, so che vi rompo le scatole, ma è una cosa importantissima Perché iscrivendovi al canale mi fate capire che quello che sto facendo va bene Se non vi iscrivete invece forse non è il massimo Posso pian pianino portarvi più qualità nei video Quindi mi raccomando iscrivetevi al canale e dato che ci siete cliccati sulla campanellina Così potete rimanere sempre aggiornati su tutto quello che succede sul canale Detto questo Vorrei precisare una cosa, allora io non sono andato sulla crociera per sei mesi Dato che tantissimi avete scritto dicendo cacchio ma sei andato su starai dei mesi su in crociera Come fanno quelli che ovviamente lavorano per la crociera, suonano in crociera Quindi non farai più i video come facciamo eccetera No, allora sono già a casa, sono stato quattro giorni in crociera Perché praticamente non sono andato io singolo, non mi son proposto io E sono andato a suonare con un'altra gente a caso in crociera Ma siamo andati con tutta la band, con tutti i Disco Inferno Per chi non conosce Disco Inferno, vi lascio qui sotto in descrizione il sito Disco Inferno Suoniamo in tutta Italia, quindi venite a salutarci, a salutarmi Finito quest'altro spazio pubblicitario Hanno chiamato tutta la band, quindi siamo partiti con la band E abbiamo portato sulla nave il nostro spettacolo solito Non abbiamo dovuto preparare altre cose E quindi dato che alcuni di voi mi hanno chiesto come fare per suonare in nave Come fare per andare a suonare sulla nave Sinceramente non vi so dire Ma credo si possa comunque scrivere direttamente alla costa crociera Per proporsi singolarmente Ci sono io oppure c'è la mia band Vogliamo venire a suonare in costa Questo è il nostro curriculum, questi sono i nostri video Questa è la nostra cosa Secondo me questa cosa si può fare Noi siamo entrati in modo diverso però Ci ha chiamato un'agenzia che manda clienti alla costa crociera E probabilmente questa agenzia gli ha detto Dato che io ti porto 1500-2000 persone non lo so Lasciami il teatro per quel venerdì perché devo fare un evento privato apposta per i miei clienti E l'evento privato consiste nel concerto di disco inferno Praticamente è andata così Per chi ci ha chiesto dove avete suonato Se in un bar della crociera Se nella stiva della crociera Dove avete suonato Abbiamo suonato in teatro Che in realtà è stato molto molto figo Perché penso sia il posto più figo per suonare sulla nave Ma lo vedrete tra poco nel pezzettino di video Che vi faccio vedere Sono più o meno due o tre minuti di video In cui uno del pubblico mi ha ripreso Mentre facevo l'assolo di batteria Nello spettacolo c'è sempre una particina In cui io faccio un mini assolo di batteria Non aspettatevi ovviamente il solo di batteria di Steve Gadd Figo, musicale, eccetera eccetera Per due motivi Primo perché non sono Steve Gadd Secondo perché in realtà il mood del concerto Il mood della band È un po' più Da festa È un po' più 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 Grazie a tutti